E salve a tutti amici coberiani e bentornati in questo nuovissimo video, mio dio! Siamo su Will to Live Online, perché? Perché voglio inaugurare questa nuova rubrica, tra virgolette, del... Ma... e poi nome del gioco, insomma... Perché ci sono magari tanti giochi che volevo... Riportare, che comunque qualcuno me l'aveva chiesto, ma non sapevo effettivamente che tipo di contenuto fare Quindi mi è venuta in mente questa cosa, perché non riprendo tutti questi tipi di giochi che ho, diciamo, mollato Non ho più riportato nel canale, come appunto Will to Live Online, l'ultima volta che l'ho portato è stata, mi pare, due anni fa E... e quindi, insomma, tipo... non so, ci sarà anche Survive the Night, tipo, ma Survive the Night? Ho capito, un po', un po' tutte queste cose da dire, qua c'è... salve Eeeh... eeeh... hello? You are... this is a trap Oh no! Oh, shish! Ohhoho! You kinda suss! Hmm... We have to talk? Che cazzo... Eeeh... comunque c'è da Gabi! Non era il nostro Gabi! Eh, ciao Ivan! E niente, comunque, a parte... sti... sti russi magici... stavo dicendo Insomma, questi... questi giochi e quindi... ma... blablabla con, insomma, un piccolo gameplay mentre... mentre si parla Allora, ed è anche il video per inaugurare l'arrivo del preamplificatore per il microfono Quindi l'audio dovrebbe essere un po' più pulito con, teoricamente, meno fruscio di sottofondo Con meno cose di... di sottofondo, teoricamente, non lo so, comunque... comunque vediamo Allora, qui stavo facendo questa missione dove devo andare a... a prendere delle robe Qui, che sono quelle che ho lì sulla sinistra, devo prendere quella roba lì Comunque, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili come il mio Discord, Facebook Poi, visto che in diversi ogni volta mi chiedono che PC ho, ci dovrebbe essere anche la lista dei componenti aggiornati E... insomma, tanti link, andateci e controllate E vi ricordo che sono anche partner con Gportal Per chi non sapesse che cos'è Gportal È un provider di... di server di gioco Quindi Scam, DayZ, Ark, Minecraft, insomma, ci sono tanti tipi di giochi Quindi, se vi interessa, sotto trovate il... il link Il mio link, per poter acquistare, insomma, tutti i server che volete Con un 5% di sconto sul totale del server Quindi, schifo non fanno, ecco, avere... anche se è 5% però è sempre meglio di... di zero, insomma Infatti, in alto a sinistra, in tutti i video lascio sempre che è sponsored by Gportal Perché... insomma, perché va bene così Infatti, l'ultimo video, quel video un po' strano di Tarkov con un po' Frozen Flame Visto anche lì non sapevo che... che cosa farci Però... però va bene così, dai E... e ho preferito fare un video su Will to Live Online Che iniziare subito con... il mio esperimento Madonna, ci sono già le radiazioni Che c'è? Le sto... continuo a perdere vita? Ok... eeeh... aspettate... usa... No, no, perché split? Vuoi usare... eeeh... Preferisco fare un video qui che sul mio esperimento di Tarkov Perché su Tarkov, appunto, ci sono molti momenti dove magari sto fermo E c'è un sacco di... potrebbe essere un sacco di fruscio Quindi preferisco fare un attimo questa prova anche con il microfono nuovo qua su Will to Live Online E parlando nuovamente del microfono E anche un esperimento per vedere se potrebbe iniziare a gracchiare Perché cercando un po' a giro ho scoperto che Il problema del... fatto che mi gracchiava Poteva essere dovuto Eeeh... al fatto che nella mia scheda audio il volume era al massimo Per questo ho dovuto comprare il preamplificatore Perché si collega il microfono al preamplificatore Che poi lo colleghi alla scheda audio e lì gestisce un po' il gain Io non ce l'avevo quindi dovevo metterla al massimo Adesso è tipo a poco più della metà E quindi c'è uno... poteva essere anche un problema proprio del fatto Perché il volume stava sempre al massimo E quindi su Discord o Teamspeak ogni tanto Eeeh... anzi ogni tanto Spesso iniziava a gracchiare Cioè proprio a grattare Eeeh... molto fastidiosamente Eeeh... e ho dovuto... comprare appunto il preamplificatore E quindi fare... questo video invece di fare quello di Tarkov E' proprio anche un'ottima scusa per... Eeeh... se appunto viene tutto una merda Eeeh... lo... 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 lo posso rifare questo video Ecco Quindi spero che vi piaccia questa mia nuova rubrica Per riportare giochi che è una vita che non... non riportavo Fatemelo sapere sotto nei commenti Adesso iniziamo con questa missione Quello è inseguito da... un affarino Allora vediamo Qua non ci sono mai stato Primissima volta in assoluto E mi fanno paura... questi affari Qui di... di elettricità che potrebbero shottarmi Comunque allora Avevo detto Quello della missione che c'erano Dei cosi... delle casse Devo trovare appunto quelle cose che devo trovare Ah eeeh... la... Questo esperimento di Tarkov Che mi è venuto in mente Ovvero di fare solo ed esclusivamente SCAV Per vedere come può essere un po' Il progresso nel gioco con solo lo SCAV Eeeh... vabbè ovviamente Non significa che non farò qualche PMC Perché la roba che guadagnerò in qualche modo la dovrò utilizzare Eeeh... non sarà una cosa che durerà per sempre Ecco perché come arriverà Cyberpunk Penso che spammerò a merda Cyberpunk anche se Non andrà benissimo come... come video Non credo andranno benissimo Poi vedremo Però anche se... non andrà... aiuto Anche se non andranno benissimo Vedrò... di continuarlo E penso che saranno video da... da mezz'ora Li caricherò boh... una al giorno Vediamo un pochettino E li farò come se fossero delle live Quindi tagli zero questa anomalia Rote il cazzo di seguirmi Aia aia vado a fuoco Vaffanculo E quindi sì... come arriverà cyberpunk Probabilmente sarà stoppato qualsiasi altro gioco Eeeh... boh... spero vi... vi... poi vi piacerà il modo in cui la porterò Come se fosse una live Quindi... eh... tagli zero Dovrò comunque un po' gestirla Se fare anche le missioni secondarie Vi porto proprio tutto Cioè... io gioco quello che succede Succede O... o... solo... principali Comunque... magari datemi un vostro pensiero Poi vedremo Allora questo qui colpisce Mi sa... Comunque ora basta chiacchierare Concentriamoci un attimino sul gioco Penso di aver coperto tutte le cose che volevo coprire Allora Sarà lunga, credo Per me trovare Questi cosi E... ah ah Ti ho visto Questi watcher Adesso, se vi interessa il gioco è anche free to play Quindi Se... vi interessa giocarci Io... io ve lo consiglio Già valeva quei... Gli undici euro Che mi pare costava Però... adesso che è free to play Ovviamente vale tutto il free to play È molto lungo come gioco Ma... veramente, veramente lungo Ho... 50 ore In 50 ore ho fatto un livello Ero già a livello 25 Perché... I sviluppatori mi hanno dato il gioco E poi mi... Mi aumentarono il livello 25 Per portare qualche contenuto Un po' più interessante Eccetera, eccetera, eccetera E cos'è? Comunque è assurdo Come in ogni... Roba dove si può luttare È comunque un pochettino vuoto Oh, ratti Via, via E muovono male Allora, se... Ci fosse la carne Quella non è andata male Ok, mi serve per... Una missione Quindi... La prendo di già E comunque Ho già rigiocato un po' Tarkov Col mio amico Rocca Ma... Sinceramente Quel gioco Non mi sta dicendo più niente Cioè, non... Non mi... Che cazzo Ma vaffanculo Bimbetto simbionte di merda Che cazzo Oddio Un bello simbionte Eh, ok Oh, yeah Oh, yeah La gift cards Ye, ye, ye Chi non lo sa E non ci gioca Le gift cards Le hanno messe adesso Per l'evento Di... Di Halloween E con centocinquanta Di quelle Si sblocca Prende questa E... E... E questo Quindi centocinquanta E centocinquanta E queste armi Con queste skin Sono... Duecento Per ogni arma Quindi C'è da farmare un bel po' Ne ho Sedici Vaffanculo Questa anomalia Che dà anche fuoco Allora Questa anomalia Con il teletrasporto Che io me le segno tutte Quindi Add marker Oh, merda E... Tipi Set Ok Baby simbionte Mori Mori Vaffanculo Troppato niente No Quindi Questo gioco Non è per tutti No Non è assolutamente Per tutti Questo gioco Perché è veramente Cioè Se Tarkov È uno di quei giochi Dove ci devi stare Tutto il giorno O devi giocare Solo ed esclusivamente A quello Per Fare qualcosa Cioè Questo è Cento volte peggio In tempo da spenderci Però è È un gioiellino di gioco Cioè E stanno Continuando ad aggiornarlo Quindi tanta lana Tanta lana Allora Qui io non sto Trovando un emerito Cazzo Cioè Ora Ah Ah Me vi fanno anche Nel bunker Però il bunker È qua sopra E dovrei rifare Una strada Della madonna Senti Te Dove mi porti Troppo lontano All'interno Ok Fuori All'esterno Buono Proprio Dove volevo andare Io sono stato In questa struttura Sono stato di là Tutto ma Qui ci sono Griglie Ci sono le griglie Non c'è nessuna Sfondata Che sennò Devo rifarmi il giro E dai E devo rifarmi il giro Mare Mampelata Sudicia Ah già Poi Vi voglio Mandare anche Se siete arrivati Fino a questo punto Vi voglio mandare Nella community tab Perché c'è un sondaggio Per Un Server di gioco Per quale vi potrebbe Interessare Perché essendo Vabbè Sono partner in gport L'ho un server Gratis Ogni mese E per ora È quello di Deadmatter Però Deadmatter Adesso non si può più Acquistare Quindi ci può Arrivare meno gente Non posso Per ora Fare un video Dove mostro Che comunque Ho Questo Server Cosa Blablabla Perché è sotto NDA Quindi non posso Mostrare Nemmeno il gioco E Quindi È tutto un po' Una Mertina Secca Quindi ho messo Per ora Tre giochi Che ho messo lì O Desi O Scam O Deadside Però C'è anche L'ultima opzione Che dice Nessuno dei tre Quindi commento Con quello che mi interesserebbe Ma Quelli che hanno votato Non hanno scritto Un cazzo Quindi Bastardi Che mettete i voti E non ci fate nulla Con quei voti E E quindi Andate lì E E votate Perché così Non spreco Quest'opportunità Che mi hanno dato Di avere un server gratis Il server Di Deadmatter È sempre vuoto Invece se fosse come Il vecchio server Di Scam Che era sempre Bello pieno Ovviamente mi farebbe comodo Però I slot sarebbero 20 Che sono un po' pochini Quindi sarebbe venuto in mente Anche squad Però pure quello 20 persone Sono poche Però già Deadside Scamo Dei sì 20 persone Ci potrebbe stare Ecco Allora E Qui a me Fanno girare un po' Le palle Perché A parte Carenza di casse Ah Preso quello che fa a fuoco È vuoto Ma vuoto Cioè Mi ha fatto venire qua Per cosa Guarda Cioè qui Spana sempre questo Boh Io Qua sono 25 minuti Che registro E non so Di quanto gameplay Devo tagliare Perché comunque Non Non ho stoppato La registrazione Quando dovevo fare Chilometri a piedi E Oh Attento ho visto È peccato che È Diventato Buio Uh Stonks Se qui Continua a spawnare La gift cards Resto qua Buono Niente Tanto Qui la missione Me la continuerò Da solo E Peccato Sarebbe stato bello Completarla In In video Comunque niente È stato anche un video Di chiacchiere Per Le novità Eccetera Spero che questa rubrica Vi interessi Magari Sotto in descrizione Sotto nei commenti Consigliatemi Qualche gioco Che magari Non mi viene in mente Di quelli che ho portato Però Tipo Oddio Non mi ricordo Uno che portai Una vita fa Sempre un survival Russo Stra Stra Vecchio Tre anni fa L'ho portato Avevi il canale da poco E Poi vabbè Questo ci sarà Survive the night Comunque Qualche giochino Che ho portato Ma Fatemi sapere Comunque Consigliatemi Qualche cosina da portare Che potrebbe essere Interessante Penso che questa Potrebbe essere Anche una nuova era Del canale Perché Inizierò a Portare Forse qualcosa Che non sarà Inerente al canale Come appunto Cyberpunk E così da 30 minuti Fissi Come Magari Feci la serie Di Resident Evil 2 E E portare Più contenuti Anche se Nessuno Si Si cacherà Certe cose Visto che ormai La maggior parte Di quelli che mi seguono E per certi tipi di giochi Appunto Tarkov Insurgency Questo gioco potrebbe essere Anche uno di quelli Più o meno La tipologia è quella Quindi niente Detto questo Sono 27 minuti che registro Quindi Meglio se la finisco qui Perché non so Di quanto potrebbe venire lungo E quindi niente signori Spero che sia andato tutto bene Anche con l'audio Sia l'audio del gioco Che il microfono Tutto a posto Anche se ho fatto dei test Però appunto Sta cosa del Grattare Spero non sia successa E se questo video è uscito Appunto non è successo E nulla Tanto amore Signori E ci si vede Nel prossimo video Ciao ciao Belli Grazie a tutti.